faccio vedere i pantaloncini 800 un buono più di moda è vintage come chiamate roberto domenica metterò una maglietta che voi gli altri non avete visto mai poi si va che mette l'invernale domenica arriva oh via che è arrivato oh via che potremmo chiedere come non lo sai ne hai fatta mai quella di sicilio eh sì ma due anni fa me la ricordo speriamo che non è chiusa eccoci di qui si va giù va giù va giù va giù di qui va giù va giù si va giù con le riprese una volta c'era una pianta occhi un te e me se non lo secate no 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 cura dietro da o l'unico che è sceso scandalo scandalo figi ha bloccato tutto è tappo mar parte quando te fermi buttate il culo addietro il culo addietro no va stesso ripia scendeva l'altra parte scandalo scandalo se te lo scandalo del ciclismo lo dico chiaro e tondo io già dato grazie